Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fibili, dove tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna c'è un chilometro di coda in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra Montopoli-Valdarno e San Miniato, sempre verso Firenze. In A1 tratto chiuso per lavori tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Oggi rientro a scuola anche per gli studenti delle superiori. È in atto una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico. Aggiornamenti e collegamenti in diretta sui canali social di Muoversi in Toscana. E si ricorda che il numero verde regionale per gli utenti del TPL è 857 05 30. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Aggiornamenti e Comune di Firenze